Parliamo di una discriminazione che è sempre più avanzata nel nostro paese. Dei posti in cui i diritti umani vengono colpestati e la gente rimane a guardare. Ma c'è chi è che scende in piazza e fa sentire la propria voce. E quindi qua siamo oggi tutti insieme per dire che i ciechi devono chiudere, per dire che gli uomini nascono e muorono tutti uguali e che il mio paese e anche il paese dei miei fratelli con la pelle di un colore diverso.